Le violenze delle bande armate a Haiti hanno spinto circa 53.000 persone a lasciare la capitale Porto-Prince nelle ultime tre settimane. Più della metà sono dirette verso il sud, che già ospita 116.000 profughi. Lo hanno rivelato martedì le Nazioni Unite, secondo cui non vi sono risorse sufficienti per assistere tutti. L'esito dalla capitale, dove vivono circa 3 milioni di persone, è cominciato a febbraio, dopo gli attacchi lanciati dalle gang contro la polizia e le prigioni, da cui sono scappati circa 4.000 carcerati.